Auto in fiamme nella mattinata di giovedì 8 luglio, poco prima delle 9, in via Municipio Angolo via Fratelli Berra d'Ozegna. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco di Vrea e di Torino Stura, che hanno spento le fiamme, ponendo massima attenzione visto che sulla vettura, una Fiat Tipo, era stato installato un impianto GPL. Nessuno è rimasto ferito. Grazie a tutti.